Buongiorno a tutti e ben ritrovati negli studi di Ippocrate, la medicina come professione. Oggi è 14 febbraio, il giorno di San Valentino, che tutti conoscono ma magari non tutti festeggiano. Ma da dove viene questa festività? Perché si celebra proprio il 14 febbraio? Vediamolo nel servizio. San Valentino, la festa degli idlamorati, ha origini antiche. Risale al 496 d.C., quando l'allora papa Gelasio I volle porre fine ai lupercali, agli antichi riti pagani dedicati al dio della fertilità, l'uperco. Celebrati il 15 febbraio di ogni anno, apparivano per il credo troppo in contrasto con la morale cristiana. Le matrone romane si offrivano spontaneamente e pestrata alle frustate di un gruppo di giovani inuti, devoti al selvatico fauno luperco. Papa Gelasio I decise di sopprimere questo rituale, dedicando il giorno precedente, il 14 febbraio, agli innamorati, di cui San Valentino divenne protettore. La festa è stata tramandata fino ai giorni nostri, diventando un'occasione per scambiarsi i gesti d'amore e trascorrere una serata romantica. Negli ultimi anni, con l'avvento dei social network, la festa di San Valentino ha cambiato ancora una volta il suo volto. Molte relazioni nascono, crescono e a volte finiscono, anche nelle chat. Grazie alle app di dating, oggi è molto più facile non solo incontrarsi, ma selezionare con cura le caratteristiche della donna e dell'uomo con cui si intende trascorrere la serata. Social e app, infatti, sono divenute vere e proprie reti di socializzazione globale e nel mondo gli appuntamenti online generano cifre da capogiro. Secondo il rapporto 2022 di Business of App, Tinder, tra le app più rinomate al mondo, ha generato 1,65 miliardi di dollari. Ma è Hinge, l'applicazione che ad incontri mordi e funghi punta a rapporti duraturi e a matrimoni, a crescere di oltre il 118% nell'ultimo anno con 7 milioni di nuovi utenti nel 2021, e raddoppiando i suoi utenti paganti. Rinomate in crescita anche in Italia Appen, Bumble, Grindr e Inner Circle ed R, oltre a Mythic, OkCupid o Badoo e Facebook Dating. Le preferite sono quelle che promettono di individuare persone che hanno interessi comuni e che aiutano ad instaurare rapporti autentici. Il mordi e fuggi interessa meno, ma riuscire a fare scoccare la freccia di Cupido online non è per niente facile per gli italiani. A frenare la formazione di nuove coppie sono i pregiudizi, soprattutto quando a iscriversi alle dating app e lei. Oltre al timore di non essere all'altezza della prova dal vivo, che colpisce il 35% degli uomini alle prese con il primo incontro, ben il 55% dice di avere più successo negli incontri offline, i pregiudizi fanno la parte del leone quando si tratta di donne ritenute delle poco di buone, per il 29% degli utenti. Le donne inoltre si sentono socialmente più pressate a provare le dating app e tendono a nasconderlo a parenti e amici. Abbiamo ripercorso la storia della nascita della festività di San Valentino dai primi anni fino ai giorni nostri e nei giorni nostri attualmente sono soprattutto i social network, quindi le relazioni che si instaurano e a volte continuano anche nel mondo virtuale hanno cambiato anche il modo di relazionarsi. Per approfondire proprio questo argomento, allora vi vado a presentare il nostro ospite di quest'oggi, il dottor Michele Spaccarotella, psicologo e psicoterapeuta, membro del network che si occupa di psicologia e sessualità dell'ordine dei psicologi del Lazio. Benvenuto dottor Spaccarotella. Grazie Isabella e buon San Valentino quindi a tutti i telespettatori. Assolutamente, buon San Valentino a tutti. Ma allora dottor Spaccarotella, come le app, i social network, quindi tutto l'insieme di ciò che il mondo virtuale ci offre, ha cambiato questa festività? L'ha cambiata molto perché appunto le app di dating danno una grande possibilità. Si ragiona spesso anche a livello psicologico e sociologico riguardo a questo tema. Il fatto che la persona possa scegliere da una platea smisurata di persone quella che ritiene possa essere la più giusta per lui o per lei. Le app si stanno diversificando molto, potremmo suddividerle in app di nicchia specifiche dove il focus è maggiormente sui gusti, quindi ad esempio sui gusti musicali, sui gusti in fatto di ristoranti o addirittura dei cani che si preferiscono. Delle app invece che stanno proponendo delle nuove modalità di relazione. Mi viene in mente Once dove viene proposto un solo profilo al giorno da visionare, Waving dove al posto delle foto vengono proposti i vocali, quindi il contatto con la voce dell'altro, e infine Bumble dove la prima mossa viene riservata esclusivamente alle donne. Quindi in questo modo, in altre parole, chi non avesse ancora programmi per la serata forse ha ancora qualche chance scaricando una di queste app di trovare eventualmente una persona con cui trascorrere la serata, specialmente l'app quella mi sembra più recente che addirittura non permette di frequentarsi nel mondo virtuale senza incontrarsi nel mondo reale. Ho capito bene? Esattamente Isabella, stiamo parlando di Fiven, che è veramente l'ultima app uscita in fatto di dating. È un'app molto sensibile soprattutto ai temi del rispetto, della conoscenza dal vivo e dell'anti-ghosting. Cerco di riassumere in pochi secondi quali sono le novità di quest'app. Innanzitutto ci sono una sorta di cartellini gialli, quindi proprio per combattere il fenomeno del ghosting. Le foto all'inizio sono sfocate, quindi non c'è un impatto diretto con l'immagine dell'altro e ci sono delle domande che vengono poste all'inizio agli utenti proprio per fare in modo che l'algoritmo possa scegliere la persona più adatta per l'utente. E questo mi spinge a pensare che stiamo andando un po' nella direzione del telefilm, una coppia quasi perfetta, The One, dove a scegliere il nostro altro in amore è proprio un'analisi del DNA. Quindi cerchiamo sempre di andare più a colpo sicuro e questo però ha delle ripercussioni anche sul nostro modo di impegnarci in una relazione. Anche perché la definizione di compatibilità, a meno questo è un mio parere, dottor Sparcarotella, è un po' difficile da dare in modo esatto e universalmente accettato perché si può essere compatibili ed essere magari simili, ma anche essere completamente diversi ed integrarsi. Quindi effettivamente mi sembra che la tendenza di queste app sia quella di farci rapportare con chi è più simile a noi, non facendoci scoprire invece magari il piacere della diversità. Esattamente. Il rischio è che poi si scelgano le persone un po' come se si scegliessero da un catalogo. Cioè siamo molto attenti e attente a trovare una persona davvero simile a noi che abbia i nostri stessi gusti e questo però poi azzera il rapporto con l'alterità, con la diversità e come si dice sempre, si ama nonostante. Quindi creare una persona su misura è un aspetto un po' utopico che va a impattare proprio sulla nostra capacità di aprirci e scoprirci anche in contatto con persone diverse da noi. Questa è una curiosità che mi viene in mente proprio mentre sto parlando con lei. Sappiamo così in generale da alcune estime che vengono rese note poi di anno in anno che il numero delle separazioni e divorzi aumentano. Secondo lei, ovviamente questo è un parere estrettamente personale, dipende anche dalla modalità con la quale si conosce, si comincia una relazione, si intraprende un rapporto e quindi diciamo tra virgolette anche un po' colpa di quest'era che viviamo delle app, dei social network o semplicemente si vive la relazione con più coscienza e quindi si ha anche poi il coraggio di dire basta quando la situazione nella quale ci troviamo in realtà non è una situazione che ci piace, che ci fa stare bene. Le app ci pongono la possibilità del contatto appunto. Poi per mantenere in vita una relazione degna di tale nome c'è bisogno di un grande impegno, di una costanza e soprattutto della manutenzione. Quindi non si può rinunciare alla relazione ai primi ostacoli, bisogna sintonizzarsi sempre di più sull'altro e cercare di comprendere quanto quella relazione è importante per noi. Mi viene in mente che in alcuni paesi come gli Stati Uniti o il Giappone, addirittura per le coppie durature di lungo corso ci sono dei nuovi movimenti sociali chiamati LAT, cioè Laying Apart Together, quindi anche coppie sposate e di lungo corso scelgono proprio per far sì di mantenere in vita la propria relazione e di dormire o stare in case separate, proprio per far sì che ci sia la possibilità di andare avanti senza annoiarsi o senza rompere. Questa è una tendenza però che in Italia mi sembra che sia stata raccontata anche da qualche coppia VIP quindi può darsi che tra qualche anno prenderà piede chissà anche nel nostro paese ma perché la convivenza costante a suo avviso, questo glielo chiedo ovviamente da psicologo, da psicoterapeuta può creare, può incrinare la relazione, non dovrebbe rafforzarla nel tempo? In alcune coppie si può creare innanzitutto l'effetto noia, quindi di conoscere l'altra persona talmente bene da non avere nuovi spunti e nuovi stimoli e in alcuni casi poi si può creare proprio quella frizione data dallo stare tanto tempo insieme per tanto tempo insieme quindi non si riesce poi a diversificare quello che è il tempo di qualità da trascorrere insieme che poi invece costituisce la forza e il legame di una coppia. E quindi la soluzione è allontanarsi, sembra quasi un controsenso no? La soluzione è trovare sempre il nuovo nell'ordinario, quindi darsi la capacità di stupirsi e riscoprirsi anche con un partner con cui stiamo insieme da tanti anni. Sappiamo, questo lo raccontano sempre molte stime, sondaggi e statistiche che comunque la vita moderna, contemporanea, anzi direi una vita frenetica quindi spesso il tempo è anche poco da trascorrere insieme. Questo secondo lei ha migliorato o peggiorato le relazioni? Perché c'è poco tempo, potrebbe essere di migliore qualità oppure c'è meno tempo e anche la qualità poi comincia a scarseggiare perché forse abbiamo anche poche energie che sfruttiamo sempre in queste corse quotidiane? In realtà entrambe Isabella perché il tempo è molto di meno perché si fanno appunto vite frenetiche sin dall'adolescenza o dalla giovane età ci si riempie di cose da fare e soprattutto per le coppe più adulte che lavorano tutto il giorno il tempo insieme è molto poco e spesso si sceglie di passarlo anche semplicemente davanti alla tv guardando qualche serie tv, riposandosi e invece dando poco tempo di qualità appunto alla coppia che è quello che consente poi la durata nel tempo. Probabilmente bisognerebbe porsi la domanda sto realmente bene nella situazione che vivo al di là di quello che si fa perché forse si possono anche condividere delle cose semplici delle azioni rutinarie però comunque provare gratificazione, piacere quindi forse la risposta interiore è probabilmente quella che poi ci indica se stiamo seguendo la strada giusta o meno. Questo l'abbiamo visto un po' durante il periodo del lockdown e della pandemia in generale perché molte coppie passando più tempo insieme sono scoppiate proprio perché non abituate a trascorrere tanto tempo insieme le coppie più solide appunto hanno trovato nuovi stimoli anche rimanendo dentro casa, dandosi la possibilità di riscoprirsi e quindi le coppie più stabili poi hanno invece trovato nutrimento e giovamento da quel tempo in più che il lockdown gli ha dato la possibilità di passare. E quello che accade in un tempo più breve anche durante le vacanze estive perché c'è il famoso interrogativo perché d'estate la coppia scoppia a noi succede spesso questa cosa che proprio perché si trascorre tutta la giornata insieme non si è abituati a farlo allora si comincia a litigare. Speriamo che invece questo giorno, questa giornata di San Valentino sia una giornata di gioia per tutte le coppie e anche per chi è ancora in cerca dell'anima gemella. Allora buon San Valentino a tutti e ringrazio ancora il dottor Spaccarotella per essere stato con noi quest'oggi. Grazie a voi per lo spazio e rinnovo i miei auguri per questa festa degli innamorati. Ippocrate, la medicina come professione finisce qui ma vi ricordo che torna puntuale come sempre alle 13.30 su questa rete ogni giorno. Allora vi aspetto, non mancate, intanto buona giornata e ancora buon San Valentino a tutti. Grazie. 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 Grazie.